Padre Pio visto dalla stampa, questo è il tema di cui ci stiamo occupando da qualche settimana a questa parte all'interno della consueta rubrica del lunedì con Padre Pio Storia di una vita. E lo facciamo con il nostro direttore Stefano Campanella. Bentrovato Stefano. A te Francesco e a tutti i nostri telespettatori. Ebbene Stefano, noi stiamo continuando questo viaggio attraverso i quotidiani, riviste o giornali italiani ed esteri che parlarono all'inizio di Padre Pio da Pietrelcina. E cominciamo proprio con quel 9 maggio del 1919 quando la prima notizia fece poi piovere, aggrappolo, tutta una serie di notizie quotidiani, giornalisti. E ci siamo fermati proprio su quel piccolo passaggio sul Daily Mail quando un giornalista inglese riferì di una visita apostolica di Benedetto XV. Allora, si trattò sicuramente di una visita voluta dalla Santa Sede. Come abbiamo detto, colui che viene individuato come Monsignor Cheretti in realtà era Monsignor Buonaventura Cerreti, il quale era segretario per gli affari straordinari della Segreteria di Stato. Era persona di grande fiducia sia del Papa Benedetto XV, sia del Cardinale Pietro Gasparri. Abbiamo anche detto la scorsa volta che fu proprio lui a effettuare trattative segrete col Presidente del Consiglio Italiano Vittorio Emanuele Orlando per tentare di ricomporre la frattura fra il neonato Regno d'Italia e la Santa Sede, frattura che poi si sarebbe sanata soltanto nel 1929, quindi sotto il pontificato di Pio XI, ma i cui primi tentativi risalgono al pontificato di Benedetto XV e furono affidati proprio a Monsignor Buonaventura Cerriti, a questo arcivescovo molto stimato dalle due più alte cariche del Vaticano, il Papa e il Segretario di Stato. Ho aggiunto anche che non si è trattata di una vera e propria visita apostolica perché nell'archivio del Sant'Uffizio non c'è traccia di questo incarico e quindi è molto probabile che si sia trattato di un'investitura semi-ufficiale data a Monsignor Cerriti o direttamente dal Papa o direttamente dal Segretario di Stato o in alternativa dalla Congregazione dei Religiosi. Sta di fatto che questo primo tentativo di fare chiarezza su Padre Pio da parte della Santa Sede già lascia capire che in Vaticano erano giunte delle segnalazioni non proprio positive su Padre Pio tali che il Vaticano aveva già in quell'epoca creduto opportuno cercare di approfondire, di indagare, di cercare di capire. Nonostante, dobbiamo dirlo, Benedetto XV sia stato un estimatore di Padre Pio perché tutte le prese di posizione da parte di questo pontefice nei confronti del frate di San Giovanni Rotondo sono state favorevoli. E probabilmente anche questa sorta di considerazione benevola da parte del Papa nei confronti di Padre Pio può essere comprovata proprio dal fatto che Bonaventura Cerriti non ebbe un incarico ufficiale del Santo Uffizio, non venne da inquisitore ma venne per conoscere la situazione in maniera riservata e in maniera non, diciamo, da avere proprio poliziotto del Vaticano. Purtroppo però l'incalzare delle accuse nei confronti di Padre Pio continuò ad avere una via di ingresso in Vaticano. Dobbiamo ricordare in particolare due episodi specifici e cioè la visita personale di Padre Agostino Gemelli a Padre Pio nella quale Gemelli a bruciapelo chiese a Padre Pio di mostrargli le stimmate. Padre Pio non avendo l'obbedienza per farlo si rifiutò e Gemelli concluse quel colloquio con una frase abbastanza eloquente bene ce la vedremo. E di fatti il giorno dopo essere stato qui a San Giovanni Rotondo quindi appena rientrato da questa visita a San Giovanni Rotondo Gemelli scrisse una lettera abbastanza pesante ad un non meglio identificato monsignore, probabilmente si tratta di qualcuno del Santo Uffizio, nella quale fa una sorta di relazione sulle stimmate di Padre Pio come se le avesse visitate benché nella stessa relazione Gemelli, che lo ricordiamo prima di farsi frate, era un medico, un medico psichiatra benché Gemelli abbia candidamente ammesso di non aver visitato Padre Pio. Una relazione nella quale Gemelli attesta che le ferite di Padre Pio non erano le stimmate del Signore, bensì un fenomeno psicosomatico dovuto ad isteria e dovuto in particolare a un rapporto fra lui, Padre Pio, e il suo direttore spirituale, Padre Benedetto San Marco Inlamis, del tipo incube-succube. Insomma, per dirlo in termini un po' più chiari e comprensibili, secondo Gemelli, Padre Pio sarebbe stato così fortemente influenzato da Padre Benedetto nel credere di essere un mistico, nel credere di essere stato associato alla passione di Cristo che alla fine per suggestione si è fatto venire le stimmate. Gemelli usa proprio un termine psittacismo che viene dal termine greco che serve ad indicare il pappagallo perché secondo Gemelli appunto la suggestione avrebbe portato Padre Pio a questo fenomeno psicosomatico di imitazione di Cristo. E questo è il primo episodio. Il secondo episodio è l'invio da parte del Vescovo di Foggia, Monsignor Salvatore Bella, di due dichiarazioni di altrettanti farmacisti foggiani. Il dottor Valentini Vista è una sua cugina i quali attestavano che Padre Pio aveva chiesto loro due farmaci, due farmaci dall'azione corrosiva, l'acido fenico e la veratrina. Su questa richiesta i due farmacisti preoccupati proprio per l'effetto caustico dei due farmaci avevano riferito al Vescovo di Foggia il quale aveva chiesto ai due farmacisti di scrivere questa loro deposizione, questa loro dichiarazione e aveva inviato tutto al Sant'Uffizio. A questo punto, dopo la dichiarazione di Gemelli, secondo cui le stimmate erano di origine psicosomatica per suggestione, e dopo questa dichiarazione dei due farmacisti mandata al Sant'Uffizio dal Vescovo di Foggia, che lasciava sospettare che le stimmate fossero invece causate in maniera artificiale attraverso mezzi chimici, la Santa Sede è stata costretta a mandare un vero e proprio visitatore apostolico, nella persona di Monsignor Carlo Raffaello Rossi Carmelitano, Vescovo di Volterra, che giunse a San Giovanni Rotondo nel 1921 e sottopose Padre Pio e i suoi confratelli, nonché altri personaggi di San Giovanni Rotondo, tra cui alcuni esponenti del clero locale, ad un interrogatorio abbastanza approfondito. Peraltro lo stesso Vescovo Rossi esaminò personalmente le stimmate di Padre Pio e alla fine stese una sua relazione nella quale, pur lasciando intendere, sebbene in maniera non diretta, che una sua propensione a credere che le stimmate di Padre Pio fossero comunque di origine soprannaturale, avendo escluso l'utilizzo di mezzi chimici e avendo escluso la suggestione e avendo escluso anche un altro fattore importante che solo da un ecclesiastico poteva essere escluso e cioè l'azione del diavolo, perché anche il diavolo può compiere prodigi sugli uomini, però, ecco, lasciava capire che non vedeva anche lui, anche Monsignor Rossi, in maniera positiva il rapporto fra Padre Pio e il suo direttore spirituale, ritenendo Padre Benedetto inadatto ad essere la guida spirituale di una persona che aveva bisogno, evidentemente, di qualcuno esperto nella vita mistica. Quando fu depositata la relazione di Monsignor Rossi era ancora in vita Papa Benedetto XV, ma finché questa relazione è stata trascritta ed è stata esaminata dal Sant'Uffizio, Papa Benedetto ha terminato il corso della sua vita ed era stato già eletto, siamo all'inizio del 1922, a febbraio del 1922 era stato già eletto Papa Pio XI, il quale anzitutto era persona molto legata a Gemelli, essendo stato non soltanto direttore della Biblioteca Ambrosiana, essendo stato arcivescovo di Milano fino al momento in cui il conclave lo ha eletto Papa, essendo stato, peraltro, colui che aveva favorito la conversione di Gemelli, ateo, socialista, materialista dal punto di vista culturale, conversione che lo ha portato non soltanto ad abbracciare la fede, ma addirittura a entrare nel convento dell'Ordine dei Frati Minori. Quindi c'era veramente grande stima da parte di Pio XI nei confronti di Padre Gemelli. E poi comunque fece il suo corso la relazione di Monsignor Rossi, per cui proprio sotto il pontificato di Pio XI furono presi i primi provvedimenti che però passarono, diciamo, all'inizio inosservati quando furono pubblicati, e qui ritorniamo al discorso della stampa, dall'osservatore romano. Ma nel momento in cui questa declarazione del Sant'Uffizio venne ripresa da altri giornali dell'epoca, ovviamente divennero di dominio pubblico. Questa declarazione diceva che alla congregazione del Sant'Uffizio non consta la soprannaturalità dei fenomeni attribuiti a Padre Pio da Pietrelcina, per cui si sconsigliava di fatto di recarsi in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Quindi molti quotidiani si fiondano sulla notizia pubblicata dall'osservatore romano e peraltro possiamo dire che i giornali in questo frangente si schierano quasi in maniera uniforme con Padre Pio. Leggiamo per esempio quello che scrive Il Foglietto, che era un settimanale locale, un settimanale di Lucera, secondo cui il frate di Pietrelcina è un padre cappuccino come tanti, che forse ingenuamente aveva finito per credersi un santo. Ecco, qui troviamo una sorta di cambiamento di atteggiamento, perché il Foglietto in realtà era stato il secondo organo di informazione dopo il Giornale d'Italia a parlare di Padre Pio. Il Giornale d'Italia quotidiano a carattere nazionale, il Foglietto settimanale a carattere locale, sei giorni dopo, quindi il 25 maggio del 19, riprende la notizia e parla di Padre Pio in termini positivi, esternando soltanto tutti i fenomeni mistici di cui era venuto a conoscenza l'estensore dell'articolo che si firma con lo pseudonimo di Argo. Invece adesso, di fronte alla presa di posizione ufficiale del Vaticano, c'è questo cambiamento di atteggiamento che però, come ho già accennato, non vedremo in altri quotidiani. Quindi il padre Cappuccino è un padre Cappuccino come tanti altri che forse ingenuamente aveva finito per credersi santo, scrive il Foglietto, e che rappresenta un'attrattiva di primordine e produceva un forte movimento commerciale nel paese. Invece altre testate, come ho detto, si sono schierate a favore di Padre Pio, quasi mettendo in discussione quanto era stato pronunciato dal Santo Uffizio. Vediamo il messaggero che scrive La vita di questo religioso era però semplicissima e per nulla diversa da quella degli altri suoi confratelli, eccetto che nel maggiore assorbimento delle sue ore nell'ufficio della confessione. Quanto alle stimmate, egli portava costantemente le mani coperte dai mezzi guanti. E l'articolo del quotidiano romano, del messaggero, è questo. Si sa che il Santo Uffizio, quanto è pronto e deciso a colpire le opinioni e i fatti che siano in contraddizione con l'insegnamento cattolico, altrettanto è lento e guardingo prima di ammettere qualche cosa di nuovo, infatti, di prodigie e di manifestazioni soprannaturali. Le stesse apparizioni di Lourdes, ricordava il messaggero, stentarono molti anni prima di passare allo scrutinio molto severo dei padri della Santa Inquisizione. Quindi il messaggero dava ampia credibilità a Padre Pio, sostenendo che di fatto quella dichiarazione che non era effettivamente contro Padre Pio, non era un affermare che Padre Pio era un impostore, ma soltanto una presa di distanze, una non approvazione, una sorta di invito alla prudenza. Il messaggero di fronte a questa dichiarazione dice attenzione che la Chiesa è sempre prudente, sempre lenta ad ammettere fenomeni soprannaturali, così come è avvenuto a Lourdes. Quindi questo è senz'altro un punto a favore dei giornalisti che hanno saputo cogliere la santità di Padre Pio molto prima di quanto poi gli accertamenti reali hanno potuto fare. Intanto continuano ad arrivare giornalisti a San Giovanni Rotondo, continuano ad arrivare diverse testate, ancora questo passaparola, questo frate passa di bocca in bocca o di penna in penna tra diversi giornalisti, di nuovo un altro quotidiano inglese, se non sbaglio. Sì, e tra l'altro dobbiamo dire con chiarezza che quella di Declarazio del Santo Uffizio del 1923 di fatto rappresentò una sorta di meccanismo che ottenne l'effetto opposto rispetto a quello che si prefiggeva. Perché proprio quella Declarazio fece sì che il fenomeno Padre Pio riesplodesse dal punto di vista mediatico. Abbiamo visto il foglietto che poi è l'unico che ha preso un po' le distanze da Padre Pio dopo quel pronunciamento ufficiale da parte della Santa Sede. Ma abbiamo visto il messaggero. E altri quotidiani poi si sono fiondati sul caso Padre Pio, anche quotidiani che non se ne erano occupati in precedenza, proprio per effetto di questo pronunciamento del Santo Uffizio. Quindi è stato il Santo Uffizio a far ridiventare Padre Pio notizia nel 1923. Quindi il quotidiano britannico The Observer, che non si era occupato prima di questo frate che viveva a San Giovanni Rotondo, chiede al corrispondente da Roma di scrivere un articolo su Padre Pio proprio a seguito del Declarazio del Santo Uffizio. L'articolo è intitolato Un Santo è il Vaticano, quindi già nel titolo il quotidiano britannico si sbilancia, sottotitolo Un Intervento Insolito. E l'estensore si capisce che è schierato a favore di questo personaggio controverso, visto che parlando delle sue stimmate sostiene. I dottori vennero a visitarlo da tutte le parti d'Italia, qui c'è una piccola esagerazione, ma nessuno di loro riusciva a spiegare il fenomeno. In realtà sappiamo che soltanto tre medici, e peraltro da sole due parti d'Italia, avevano visitato Padre Pio. Il primo, il dottor Romanelli, che proveniva dall'ospedale di Barletta, e gli altri due, il professore Amico Bignami e il dottor Giorgio Festa, il primo docente di patologia clinica alla Regio Università della Sapienza, il secondo medico a Roma, erano entrambi appunto della capitale. Però effettivamente, mentre Romanelli e Festa si erano pronunciati, al termine della loro relazione sulla inspiegabilità scientifica delle stimmate di Padre Pio, il dottor Bignami, pur avendo ipotizzato una spiegazione razionale scientifica, in realtà attraverso un esperimento che fece fare, e che fallì miseramente, nonostante lui si fosse dichiarato pronto a scommettere che avrebbe ottenuto l'effetto sperato, dimostrò di fatto la inspiegabilità del fenomeno. In pratica, cercherò di essere sintetico, Bignami propose di fasciare le mani di Padre Pio con delle firme da parte dei frati che erano presenti al momento della fasciatura per cercare di evitare in ogni modo che queste fasciature potessero essere tolte e rimesse, ed era convinto che lasciando le stimmate di Padre Pio, le ferite di Padre Pio, senza nessuna cura, quindi senza l'applicazione della tintura di iodio che Bignami scoprì, Padre Pio usava, ma Padre Pio lo faceva per fermare il sangue, diceva Bignami che la tintura ha effetto caustico, per cui se noi fasciamo le ferite e le teniamo per otto giorni senza che Padre Pio metta la tintura di iodio, vedrete che guariranno. In realtà le ferite rimassero fasciate per 15 giorni e quando tolsero la benda, Padre Pio andò a celebrare la messa, il sangue usciva in maniera così abbondante che furono costretti a portare sull'altare più di un panno per cercare di asciugare tutto quel sangue. Quindi di fatto la notizia era arrivata al corrispondente romano del quotidiano The Observer, ma era arrivata un po' amplificata. E l'altra affermazione che troviamo in questo articolo sul quotidiano britannico, significativa e che fa capire anche l'onestà intellettuale con cui l'articolista ha scritto, è la seguente, Padre Pio non dichiara di avere poteri miracolosi, è il più modesto e semplice degli uomini, lui ha un atteggiamento mite ed ascetico. Quindi questo lascia capire come fin dall'inizio anche i giornalisti si sono accorti che Padre Pio non ostentava affatto queste sue ferite, ma cercava di nascondersi agli occhi dei giornalisti, agli occhi delle opinioni pubbliche, di vivere la sua vita nella maniera più riservata possibile. E sempre a seguito di quella declaratio anche un altro quotidiano italiano, questa volta abbiamo il numero uno dei quotidiani italiani, quello che è sempre stato il più prestigioso, cioè il Corriere della Sera, che fino a quel momento non si era mai occupato di Padre Pio, si occupa anche lui di questo frate. Il 27 luglio del 23, il Corriere della Sera pubblica anche lui la notizia della declaratio del Santo Uffizio, però aggiunge, giungono uomini e donne che vanno ad inginocchiarsi innanzi al giovane Cappuccino, a piangere, a confessarsi, a prendere la comunione. Egli ascolta e promette di pregare per loro, non promette miracoli, promette di pregare per loro. Non dice altro, scrive l'articolista, ma quel poco che dice riempie le anime di commozione e di gioia. Otto o dieci miscredenti di oltremare vogliono essere battezzati da lui. Quindi ecco che il Corriere della Sera introduce un altro elemento essenziale. Padre Pio converte. Alti prelati vengono qui per vederlo e per servirgli la messa. Questo è un altro elemento nuovo che introduce il Corriere della Sera. Il Cardinale Sili resta vari giorni in convento. Si tratta del Cardinale Augusto Sili, che era cugino del Cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato, e che era un giurista in signe della Santa Sede. I parenti del Cardinale Gasparri, scrive ancora il Corriere della Sera, si fanno vedere due volte a San Giovanni Rotondo ed il libro dell'albergo si riempie ogni giorno di nuovi nomi italiani e stranieri. Nomi, scrive l'articolista che io ho letti, dell'aristocrazia di Napoli, di Roma, di Firenze. Nomi russi, polacchi, spagnoli, americani. E gente colta, gente che regge i giornali, gente che è giunta a San Giovanni Rotondo proprio per l'effetto mediatico che la declarazione del Sant'Uffizio o prima ancora le notizie della stampa avevano diffuso. Bene, quello che emerge è un po' anche dai quotidiani italiani ed esteri che comunque San Giovanni Rotondo è diventato un luogo di pellegrinaggio, siamo quindi negli anni venti, dove si sottolinea, dove è teste coronate, ma anche alti prelati, autorità civili e religiose si recano proprio perché credono in quest'uomo, in questo frate. In effetti è anche un altro giornale, questa volta Belga, che nello stesso giorno del Corriere della Sera scrive, quindi 27... Ah no, parliamo di tre mesi dopo, 27 ottobre del 23, il quotidiano belga Les Suars scrive delle febbre altissime di Padre Pio, il quotidiano belga di lingua francese, quindi diffuso anche in Francia, febbre altissime di Padre Pio, 48 e 50 gradi, che durano per 4 o 5 giorni e che facevano saltare i termometri dinanzi agli occhi dei medici stupefatti. Questo perché l'autore di questo articolo sulle Suars era venuto a San Giovanni Rotondo e aveva parlato direttamente con due medici del posto, il dottor Angelo Maria Merla e il dottor Leandro Giuva. Quindi questo ci fa capire come quelle esperienze di misurazione della febbre a Padre Pio col termometro da bagno dopo che quelli normali erano scoppiati non sono state fatte soltanto da Padre Paolino da Casacalendo o all'ospedale militare di Napoli, ma le hanno fatte anche due medici del posto, il dottor Angelo Maria Merla e il dottor Leandro Giuva che tra l'altro hanno mostrato come scrive l'articolista al giornalista questi termometri fermi a 48 e a 50 gradi. Anche in questo caso il giornale belga, le suare, non fa altro che anticipare una fama che Padre Pio aveva, tanto è vero che Nino Salvaneschi, questo è il nome dell'articolista che ha potuto constatare nelle mani dei dottori Merla e Giuva i termometri fermi a quelle temperature impossibili, scrive Salvaneschi decine di migliaia di pellegrini sono venuti da tutte le parti, dall'Italia, dalla Francia e dal Belgio e poi continua con un elenco molto lungo e tra l'altro questo è significativo le suare pubblica anche la reazione di Padre Pio questo perché Salvaneschi si è recato sul posto la reazione di Padre Pio alla declaratio della Santa Sede scrivendo che Padre Pio l'ha accolta con umiltà francescana questa declaratio dicendo io non sono che un povero uomo come tutti gli altri io vorrei nascondermi in una buca e non farmi più vedere e questo è un altro merito che dobbiamo attribuire alla stampa nell'aver portato alla luce la grande umiltà di Padre Pio nei confronti degli avvenimenti più grandi di lui che lo hanno investito e nei confronti della popolarità sempre crescente che lo circondava tra l'altro tu Stefano io intanto ricordo i nostri amici che ci seguono da casa che possono anche seguire tutta questa serie di articoli attraverso una rubrica all'interno della rivista Voce di Padre Pio noi tra virgolette abbiamo copiato ecco la stiamo vedendo proprio in questo istante l'idea alla rivista Voce di Padre Pio e potete come stiamo facendo noi attraverso internet vocedipadrepio.com nel mese di maggio in particolare quindi facendo una piccola ricerca sul sito di Voce di Padre Pio al mese di maggio 2011 si è partito proprio da quella notizia del 9 maggio per andare a riscoprire un po' alcuni aspetti di Padre Pio visto dalla stampa volevo concludere anche mi piaceva Stefano con questo passaggio che tu hai riportato proprio di Salvaneschi che porta anche una testimonianza personale che dice Padre Pio non ama la stampa i giornalisti gli hanno procurato qualche imbarazzo d'altra parte devo confessare a me stesso che non ricordo più di essere un giornalista dice mi sento un semplice uomo venuto un po' per curiosità e molto per un bisogno e un desiderio di credere verso quest'uomo che sembra essere una sorta di luce capace di rischiarare le strade più buie degli uomini e in effetti comprendiamo come molti giornalisti venendo a San Giovanni Rotondo per scrivere su Padre Pio abbiano incontrato non soltanto un uomo in grado di dare argomenti per scrivere notizie anche clamorose ma hanno incontrato anche un uomo capace di cambiarli dentro e di far abbracciare loro la fede o di farla rinascere in coloro che ce l'avevano ma si era intorpidita a causa del tram tram della vita quotidiana o magari dei ritmi di un mestiere che porta a spostarsi in maniera rapida da una parte all'altra senza lasciare il tempo per dedicarsi a a pensare che al termine di questa corsa terrena comunque c'è una vita la vita eterna per la quale ci si deve preparare e ci si deve preparare fin da ora ebbene Stefano il nostro appuntamento si chiude qui l'appuntamento con Padre Pio Storia di una vita e alla prossima settimana a lunedì prossimo e per la prossima settimana Grazie.